Nella casa del grande fratello pensavamo di aver visto di tutto. E si permettono pure di... Non sono affari tuoi, capito? Soprepotenti, ignoranti... Modena le parole! Ma chi è che fa il bulletto? Ma chi è qua? La pagliaccia! Non vuoi andare più a casa! E invece no! Io non posso pensare che quello sia il messaggio che viene lanciato alle persone che io amo! Così devi cambiare sulteggiamento! Grande fratello! Occhi aperti! Grazie a tutti!